Mi sono accorto di queste cose, di processi di trasformazione, anche attraverso l'esperienza di un socio più anziano di me, che era nel Consiglio e poi era anche tecnico. Io l'avevo sentito sempre parlare, poi le considerazioni che diceva anche qualche di un altro, che bisognava guardare avanti, prepararsi per affrontare i processi che venivano avanti, organizzative e quant'altro. Era un po' in minoranza, perché allora c'era ancora resistenza su queste cose, comprare macchine, mettere dei suoi da parte, fare queste cose, ma tanto devono venire, abbiamo la riserva e queste cose. Grazie a lui quando sono diventato console ho detto che avrei messo in pratica quello che lui aveva proposto e che non era riuscito a fare passare. Soprattutto doveva acquisire mezzi e organizzazione del lavoro, due cose fondamentali. I mezzi era che noi avevamo pochi mezzi, avevamo una ventina di carrelli e poi abbiamo fatto quella società con l'autorità marita che ne aveva altrettanti, da 20-30-40 siamo diventati a 300, nel giro di 3 anni noi abbiamo quintuplicato, anche sesto applicato l'attrezzatura e le forciere. Ed erano piuttosto investimenti ingenti, avremmo speso almeno una decina di miliardi nell'arco di 4-5 anni, non 2 milioni, parlo di miliardi di allora, perché solo l'agru costava 4 miliardi e mezzo. Il secondo era l'organizzazione del lavoro, dovevamo avere capi efficienti, tecnici capaci per organizzare al meglio il lavoro, seguire il lavoro, per evitare i tempi morti, per tutelare anche i lavoratori, ma per far fluire il ciclo produttivo in modo migliore possibile. E allora come si doveva fare? Bisognava metterci gli uomini migliori a gestire il lavoro, i tecnici dovevano essere più bravi degli altri portuali che erano portali. Noi indicavamo dei nominativi, una rosa di nomi, l'abbiamo sempre più ristretto in modo da costringere i portuali a ragionare, non dico solo su quello, ma almeno sulla maggior parte di quello. Poi venivano votati, ma anche questo è stato frutto di una battaglia culturale in mezzo ai lavoratori e io credevo e ritenevo che la compagnia dovesse guardare al futuro, doveva guardare all'impresa e soprattutto non doveva sentirsi garantita della riserva del lavoro portuale. Se lo doveva guadagnare con le proprie capacità professionali, doveva essere in grado di offrire un servizio buono, a costi contenuti, non poteva tirarsi dietro alla foglia di fico della riserva, tanto devono venire e comunque che cavolo volete. Bisognava essere efficienti e su queste cose è andata avanti la discussione parecchio, non era facile, ma devo dire che la maggior parte dei lavoratori seguiva questo orientamento, vi ricordo che noi dovevamo fare l'assemblea quando facevamo le scelte, quando abbiamo comprato i mezzi, la discussione quando abbiamo comprato i mezzi era mi togli dal mio salario? In pratica era praticamente vero, in teoria non era proprio giusto perché io dicevo metto un addizionale per fare l'ammordennamento dei mezzi e quindi glielo faccio pagare l'utento, ma glielo ho messo e l'ho fatto pagare l'utento, non è il tuo salario, il tuo salario te l'ho dato, era un eufemismo per coprire un po' la cosa, però in parte era vero. Qualche d'uno mentre invece voleva i soldi tutti e subito e non voleva accantonare, quel concetto che abbiamo trasformato poi dopo la compagnia in cooperativa di servizi, che abbiamo scelto quella trasformazione quando la legge ci ha imposto di cambiare, arrivato a questo punto dovevamo potenziare il patrimonio. Io quando sono andato al porto, quando si diventava soci si pagava una quota sociale, cos'era questa quota sociale? Era il fatto che dicevano quando io sono venuto qua, ho comprato una stanga, proprio veramente così, un piccone, una pala, quant'altro, gli attrezzi per poter lavorare. Mano a mano che sono andato avanti, poi ho comprato un carello, due carelli, allora la quota sociale aumentava. Io quando sono venuto i portuali non mi hanno chiesto di dire non hai diritto, quando sei arrivato socio paghi la quota sociale, sei a posto. Questa era la concezione con cui ho dovuto non battagliare ma convincere parecchi che noi non potevamo fare degli investimenti in attrezzature e poi pensare che quando uno andava in pensione si portava via la quota a parte di quel capitale. Questa è stata la battaglia che l'ho vinto, che l'ho portata avanti, ma è stata una battaglia molto difficile, perché mano a mano che si incrementava il patrimonio della compagnia portuale, mano a mano aumentava il desiderio di portarsene via un pezzetto. Questo perlomeno quando abbiamo fatto una scelta, poi abbiamo trasformato in cooperativa, non era più possibile dal punto di vista della discussione e questa è una delle discussioni che abbiamo fatto con i portuali, voglio l'impresa, voglio le SRL, sono fallite tutte perché poi è stata l'egoismo, è subentrato, mentre invece io dicevo il portuale è venuto, ha trovato una cosa, adesso deve lasciare a qualcuno che viene dopo di lui e questa è stata la questione che mi ha portato avanti sino a quando poi ho deciso che forse era meglio che se mi ritiravo un po' a vita privata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.